buongiorno a tutti e ben ritrovati oggi andiamo a risolvere l'esercizio che abbiamo fatto ieri con tevenin con kirchhoff sempre richiesto da francesco e per il figlio per vedere un attimino quanto vengono le correnti in questo circuito come facciamo lo vediamo tra un attimo rieccoci allora premetto che kirchhoff si è piuttosto meccanico come tipo di procedimento però bisogna fare attenzione un pochino a impostare soprattutto ai passaggi e cercare di non accorciarli anche se sono un po lunghi un po noiosi perché si rischia comunque di sbagliare qualche segno o qualcosa diciamo che poi alla fine una volta che uno ha impostato il sistema di equazioni è un po tutta matematica quindi è anche quello alle volte che magari può essere un pro e può essere un contro allora andiamo ad impostare il discorso delle nostre equazioni di kirchhoff allora kirchhoff ci dice che cosa che è possibile risolvere un circuito cioè andare a ricavare quelle che sono le correnti che in questo caso io ho già messo con i versi corretti quindi dai più degeneratori escono la corrente e le tensioni sugli utilizzatori vengono prese in senso opposto quindi noi andiamo immediatamente a trovare come incognite le tre correnti con kirchhoff dobbiamo impostare le equazioni in questo modo si guardano il numero delle maglie e in questo caso abbiamo tre maglie quindi abbiamo questa qua questa qui e quella esterna quindi tre maglie tre correnti quindi andiamo a fare nelle nostre equazioni si va a fare un equazione n meno 1 equazioni dove n è il numero di nodi quindi ci sono due nodi mi serve solo un equazione ai nodi e poi in tutto mi servono tre equazioni una la faccio con i nodi quelle che mancano le faccio con il conigero di maglia quindi un equazione nodi due equazioni alle maglie cosa scelgo scelgo ad esempio il nodo a e al nodo a vado a vedere le correnti metterò quelle entranti i1 più i2 uguale a quella uscente i3 poi vado a scegliere due maglie ad esempio scelto questa e poi questa più larga e faccio il giro di maglia partendo ad esempio da b e facendo il giro orario quindi vado a fare e scrivere e1 le frecce se trovo le frecce verdi nello stesso verso metto più se no metto meno meno vr1 quindi sono qua più meno poi sto facendo il giro piccolo quindi più vr2 meno e2 è uguale a 0 finito il mio giro lo pongo uguale a 0 l'altra sarà e1 meno vr1 e poi sarà meno vr3 più e3 sempre uguale a 0 adesso da qua non si tratta altro di andare allora il primo passaggio è andare a sostituire con la legge di ohm dove ho le tensioni quindi vado a fare questa la prima la lascio uguale poi vado a fare e1 meno r1 per i1 per i2 meno e2 uguale a 0 e poi sotto e1 meno r1 per i1 meno r3 per i1 meno r3 per i1 i3 più e3 uguale a 0 ora vado a sostituire vado a sostituire dove ho i numeri cioè vado a sostituire e1 ed r1 così almeno comincio già a sbrogliare un pochino le cose quindi e1 sarà 10 meno r1 vale 2 quindi 2i1 più r2 vale 1 quindi 1 per i2 i2 e poi avrò meno e2 che vale 7 uguale a 0 uguale a 0 e sotto avrò 10 meno sempre 2i1 meno r3 vale 1 quindi meno i3 e poi più sempre 7 e3 che vale 7 uguale a 0 a questo punto posso andare a ricavare ad esempio allora da questa ho il valore al posto di i3 vado a sostituire i1 più i2 quindi sostituisco ad esempio nella seconda quindi la prima e la seconda le lascio così e nella terza vado a sostituire la prima quindi e poi è una cosa tutta di i3 e poi è una cosa tutta di incastri finché non si sbrogliano le cose quindi meno 2i1 meno i3 che è lascio i1 più i2 quindi ho messo la prima nella terza qua poi mi manca più 7 uguale a 0 vado sempre a lavorare sull'ultima quindi questa lascio uguale questa lascio uguale sbroglio un attimino la terza quindi avrò 10 poi avrò meno 2 meno 1 sarà meno 3i1 meno i2 e più 7 potevo fare 10 più 7 fare già 17 qua così uguale a 0 a questo punto vado a ricavare ad esempio i2 dalla terza e la sostituisco nella seconda quindi anche qua questo rimane uguale e vado invece qui a ricavare i2 quindi semplicemente porto i2 dall'altra parte mi viene 17 meno 3i1 e vado a sostituire questo nella seconda qua quindi la seconda era questa vado a fare 10 meno 2i1 più i2 che vale 17 meno 3i1 quindi sono andata a sostituire questa vedete che lo segno in rosso così forse si vede meglio quindi sono andata a sostituire questa parte qui con questa questa l'ho messa qua vedete che qua c'era dai due quindi sono arrivata qua mi manca il meno 7 meno 7 uguale a 0 vedete che qua poi alla fine tutta matematica un po' noiosa su tutti i passaggi bisogna solo fare attenzione a non sbagliare i passaggi ora mi rimane la prima e la terza uguale vado avanti con la seconda perché ho un'equazione e un'incognita e fortunatamente qua riesco a calcolarla allora qui avrò 10 più 17 27 meno 7 20 e poi avrò meno 5i1 meno 5i1 uguale a 0 quindi da questa vado a ricavare i1 che è uguale a porto di là 5i1 quindi sarà uguale a 20 fratto 5 e uguale a 4 ampere e i1 siamo a posto poi di qua usando questa vado a calcolare i2 quindi 17 meno 3 per 4 quindi 17 meno 12 5 ampere e poi vado a sostituire nella prima dove i3 è uguale a 4 più 5 e qui ho scopato un m più 5 quindi 9 ampere e quindi qua abbiamo i1 i nostri risultati i1 uguale i1 uguale 4 ampere i2 uguale 5 ampere i3 uguale 9 ampere vedete che i risultati sono uguali a parte che tornano perché ovviamente deve tornare l'equilibrio delle correnti ma poi volendo confrontare ieri l'abbiamo risolto con Tevenin qui l'abbiamo risolto con Kirchhoff si tratta sempre quando si vogliono risolvere i circuiti a meno che il docente non vi chieda esplicitamente come in questo caso di risolverlo con un metodo di cercare a voi il metodo più veloce e più intuitivo ricordiamo che dove ci sono i rami in parallelo Milman è sempre il metodo vincente perché troviamo con un passaggio solo v a b e quindi ci togliamo tutte queste cose però giusto per sapere ovviamente didatticamente bisogna anche saperlo risolvere nei vari metodi e quindi qua avete quello di Kirchhoff e ieri avete quello di Tevenin spero per Francesco e suo figlio che tutto questo sia chiaro e di essere stata utile e per gli altri che ne vogliono ovviamente usufruire fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo domani per un altro video grazie